Buongiorno ragazzi, sono Mr. Boscherini e per la lezione di algebra di oggi andremo a vedere l'identità. Nell'unità precedente abbiamo introdotto il concetto di espressione letterale, ovvero un'espressione che contiene sia numeri che lettere. Ecco, oggi in questa nuova unità sull'equazione andremo a vedere l'identità. Quindi cosa dovremmo fare? Dovremmo essere in grado, alla fine di questa lezione, di distinguere tra uguaglianze numeriche e ugualiali. Tra quest'ultimo dovremmo essere in grado di identificare le cosiddette identità. E infine dovremmo essere in grado di verificare se effettivamente un'uguaglianza letterale è o no un'identità. Come dicevo appunto, noi abbiamo nelle scorse lezioni definito le espressioni letterali e le espressioni numeriche. Quest'ultimo sono espressioni che contengono solo numeri e segni di operazione. Le espressioni letterali sono espressioni che contengono numeri e lettere e segni di operazione. A questo punto noi possiamo definire due tipi di uguaglianze. Le uguaglianze numeriche, cioè uguaglianze tra espressioni puramente numeriche. Quindi numeriche quando sono uguaglianze tra espressioni che contengono solo numeri. Ma a questo punto possiamo introdurre anche le uguaglianze letterali, ovvero uguaglianze tra espressioni che possono anche contenere lettere. E per capire se abbiamo davvero compreso questo concetto vediamo subito degli esempi. Quindi abbiamo quattro uguaglianze. Alcune di queste sono uguaglianze numeriche, alcune sono uguaglianze letterali. E una piccola precisi simbolo sta per i segni di moltiplicazione, non sta per la x. Ecco, io vorrei che metteste un attimo in pausa questo video. E pensaste, cioè vedete se da soli riuscite a identificare quali sono uguaglianze numeriche e quali sono uguaglianze letterali. E vediamo allora qual è la soluzione. Allora, la prima espressione, la prima uguaglianza, scusate, contiene solo numeri. Quindi è un'uguaglianza numerica. La seconda contiene la lettera A, sia a sinistra che a destra, quindi è un'uguaglianza letterale. Così come è un'uguaglianza letterale la terza, anche se contiene un'espressione letterale solo qui a sinistra con la y. Infine l'ultima contiene di nuovo solo numeri, quindi è un'uguaglianza numerica. Quindi ora che sappiamo che cos'è un'uguaglianza letterale, vediamo il caso particolare dell'identità. E vediamo subito la definizione. Un'identità è un'uguaglianza letterale che è verificata, verificata significa che è vera, che è giusta, qualunque sia il valore attribuito alle lettere che in essa compaiono. Cioè, se io vado a sostituire, scusate, un numero qualsiasi al posto delle lettere che ci sono nelle due espressioni, questa ugualianza è sempre vera. Ed ecco un esempio molto molto semplice. Come vedete, al primo membro abbiamo 3a più 5, al secondo membro abbiamo 5a più 10 diviso 2 meno 2a. E come vediamo che è un'identità? Intanto consideriamo la prima espressione. La prima espressione è già ridotta ai minimi termini, perché abbiamo il monomio 3a, il numero 5 non si possono sommare, quindi lo dobbiamo lasciare così come so. Nella seconda espressione invece abbiamo due monomi simili, vedete, li ho identificati con due segni grazi uguali, 5a e meno 2a, li vado a sommare, ottengo 3a, e poi 10 diviso 2, 10 diviso 2 che fa 5, e come vedete ho ottenuto due espressioni identiche. Ed è chiaro che se ho due espressioni identiche alle due parti d'uguaglianza, queste saranno avere qualunque sia il numero che vado a sostituire alla a. Quindi è un'identità. In classe vedremo altri esempi di espressioni letterali e vedremo quando sono o quando non sono dell'identità. Ma per oggi è tutto, arrivederci alla prossima lezione da Mr. Boscherino.